Allora, nella lezione di oggi inizieremo ad affrontare lo studio dei metodi che permettono di confrontare tra loro degli investimenti alternativi e di scegliere quello preferito dal punto di vista economico-finanziario. Qual è il percorso logico che seguiremo? Introdurremo prima le basi per il confronto, cioè dei parametri che utilizzeremo come base per fare il confronto delle alternative. Poi su queste basi per il confronto illustreremo dei criteri, appunto per scegliere gli investimenti preferiti e infine faremo delle applicazioni. Iniziamo da subito e incominciamo a introdurre la prima base per il confronto. Beh, in realtà la prima base che introduciamo è qualcosa che abbiamo già visto nelle scorse lezioni, il valore presente. Che cos'è il valore presente di un flusso di cassa? Non è altro che l'equivalente di quel flusso di cassa di tipo B, cioè l'equivalente di quel flusso di cassa all'istante di tempo 0. In formula, dato un generico flusso di cassa rappresentato da una sequenza di importi F0, F1, F2, generico FP, F all'istante di tempo N, dove gli importi ovviamente sono caratterizzati anche da un segno che avremmo scelto opportunamente di definire come ad esempio positivo per le entrate o negativo per le uscite o viceversa, quindi dato una serie di importi che si verificano all'istante di tempo 0, 1, 2, N, il valore presente non sarà altro che la sommatoria dell'importo generico F di P per il coefficiente P dato F al tasso di interesse I al quale andremo a calcolare il valore presente per cui il valore presente dipenderà da tale tasso di interesse quindi il valore presente sarà ovviamente una funzione del tasso di interesse I quindi qui dato F, I, T con T che va da 0 a N o se volete sommatoria per T che va da 0 a N di F di P che moltiplica 1 più I elevato alla meno T bene, questo è nient'altro che quello che abbiamo visto sinora, abbiamo calcolato più volte gli esercizi, appunto il valore presente che è la prima base per il confronto delle iniziative ma dobbiamo dire che in questo caso, un po' quello che dissi in una delle lezioni precedenti essendo il valore presente la base per il confronto delle alternative di fatto più usata esiste una molteplicità di modi diversi di riferirsi a questa grandezza e anche una molteplicità di acronimi per esempio, il valore presente è l'acronimo che abbiamo utilizzato in questo momento naturalmente ci sarà anche un acronimo inglese che è PV, present value ma non basta, un altro acronimo inglese è present world che significa la stessa cosa oppure potete trovare altri acronimi che si riferiscono sempre alla stessa grandezza ad esempio, vado a memoria, non me li ricorderò tutti dcf discounted cash flow e così via, ce ne sono diversi quindi nei testi anche negli esercizi troverete diversi modi di riferirsi alla stessa grandezza così come nei testi appunto troverete acronimi diversi per riferirsi alla stessa grandezza d'accordo? bene, questo è il valore presente è importante è importante per quello che diremo tra breve andare a disegnare il diagramma del valore presente in funzione del tasso di interesse ovviamente può essere vario cioè è facile individuare opportunamente dei coefficienti che permettono di descrivere questa funzione lavore presente in funzione del tasso di interesse con le forme più diverse nella sta grande maggioranza dei casi per flussi per così dire regolari cioè caratterizzati da una serie di uscite e poi una serie di entrate che è quello che avviene tipicamente in un investimento io investo e poi ci saranno i ritorni dell'investimento quindi per flussi fatti in questo modo uscite ed entrate non per flussi per così dire strani che sono uscite ed entrate uscite ed entrate questo diagramma assume una forma di questo genere al tasso di interesse nulla al tasso di interesse nullo il valore presente non è altro che la somma algebrica di tutti i coefficienti evidentemente man mano che cresce il tasso di interesse questo valore presente ovviamente tenderà a scendere no? tenderà a scendere perché vi ricordo che il flusso di cassa è fatto in questo modo ci sono prima le uscite f0 f1 poi le entrate f2 f3 fn man mano che cresce il tasso di interesse quando andiamo a attualizzare tutti questi importi a calcolare l'equivalente all'istante di tempo zero gli importi via via più lontano peseranno meno perché andranno divisi per il coefficiente 1 più i elevato a esponenti via via crescenti quindi 1 più i elevato alla prima la seconda la terza alla n quindi è evidente che man mano che cresce il tasso di interesse questi denominatori saranno più grandi e quindi questi importi peseranno di meno quando andiamo a fare la somma e quindi al crescere del tasso di interesse la funzione assumerà un andamento di questo genere in particolare ci sarà un certo tasso di interesse per il quale questa funzione si annullerà e questo è importante e vedremo tra breve perché perché questo punto è un punto rilevante e poi per il tasso di interesse successivo la funzione assumerà un valore negativo ecco d'accordo? bene il valore presente lo sappiamo calcolare nessun tipo di problema è inutile soffermarci su questa base per il confronto tra le alternative una seconda base per il confronto tra le alternative sarà il valore futuro anche qui ci sono diversi acronimi per esempio c'è l'acronimo inglese future value Fv così come l'acronimo future water insomma ce ne sono diversi poi man mano che li troveremo negli esercizi ci li danno in mente allora che cos'è il valore futuro? non è altro che l'equivalente di un flusso di cassa di tipo F cioè l'equivalente del flusso di cassa all'istante di P finale del flusso di cassa considerato lo sappiamo calcolare? sì, anche questo valore futuro lo sappiamo calcolare non sarà altro che la sommatoria per chi che va da 0 ad n del generico importo F di T per il coefficiente questa volta F dato P non facciamoci ingannare dalla terminologia che abbiamo utilizzato se abbiamo un flusso di cassa appunto fatto così 0,1 T che so che è entrata T questo sarà F di T n ci sarà F di n quando andiamo a calcolare il valore futuro dobbiamo portare avanti tutti questi importi all'istante di tempo finale e quindi F di T dovrà fare questo tipo di operazione dovrà andare avanti di N meno T anni e quindi bisognerà moltiplicarlo per il coefficiente F dato P al tasso di interesse I per appunto N meno anni d'accordo? questa base per il confronto la chiameremo valore futuro per completezza seppur meno utilizzata un'altra base per il confronto è l'equivalente annuo l'equivalente annuo al tasso di interesse I non è altro che il flusso di cassa equivalente a quello dato questa volta di tipo A quindi qui avremo il flusso di cassa equivalente a quello dato di tipo P qui avremo il flusso di cassa equivalente a quello dato di tipo F qui avremo il flusso di cassa equivalente a quello dato di tipo A è un po' più difficile andare a ricavare la formula generica in termini di coefficienti perché ricordiamoci com'è fatto no? flusso di tipo A man mano che andiamo avanti dovremo scomporlo in una serie di importi uguali alcuni in anni successivi altri in anni precedenti ma tutto sommato non ha neanche senso fare un'operazione di questo genere perché se abbiamo capito come si calcolano queste cose possiamo ricavare l'equivalente annuo direttamente a partire per esempio dal valore presente il valore presente è l'equivalente all'istante di tempo 0 e quindi banalmente potremmo scrivere che l'equivalente annuo sarà il valore presente all'istante di tempo i che viene calcolato con questa formula che abbiamo appena introdotto e poi lo moltiplichiamo tutto per il coefficiente adatto P al tasso di interesse i n il modo migliore piuttosto che cercare formule complicate è ricavarlo a partire dal valore presente e poi trasformare questo flusso di cassa di tipo P nel corrispondente flusso di cassa di tipo A o notiamo una cosa abbiamo introdotto tre basi per il confronto tra le alternative queste tre basi per il confronto tra le alternative nel momento in cui andremo a ricavare i criteri nella prossima lezione no? che saranno con grande fantasia di nome il criterio del valore presente il criterio del valore futuro dell'equivalente anno questi tre criteri ci daranno sempre lo stesso risultato cioè applicati a due flussi di cassa alternativi se scegliamo il preferito lo criterio del valore presente o quel criterio del valore futuro o quel criterio dell'equivalente anno otterremo sempre lo stesso dei due flussi di cassa come quello scelto questo perché? beh è abbastanza ovvio dato due generici flussi di cassa diciamo A e B possiamo ricavare questa relazione il rapporto tra il valore presente del flusso di cassa a un istante di tempo I diviso il valore presente il valore presente del flusso di cassa al tasso di cassa I sarà uguale al valore futuro calcolato per il flusso di cassa al tasso di cassa I diviso il valore futuro calcolato per il flusso B al tasso di cassa I e sarà anche uguale all'apporto tra l'equivalente anno del flusso A al tasso di interesse I l'equivalente anno del flusso B al tasso di interesse I sempre che i due flussi però abbiano uguale durata altrimenti le cose potrebbero cambiare poi vedremo meglio negli esercizi cioè dati i due flussi di uguale durata e assegnati un certo tasso di interesse applicare un criterio piuttosto che un altro darà gli stessi risultati perché vale questa eguaglianza? beh, guardiamola prima il valore futuro non è altro che il valore presente moltiplicato il coefficiente 1 più I elevato alla M no? il valore futuro lo sappiamo è l'equivalente all'istante di tempo F quindi non è altro che il valore presente moltiplicato il coefficiente 1 più I elevato alla M o se volete la stessa cosa moltiplicato il coefficiente F dato P, I, M se i due flussi hanno la stessa lunghezza questo vale tanto per il flusso A tanto per il flusso B no? i due coefficienti che permettono di passare da valori presenti a valori futuri sono gli stessi 1 più I elevato alla M quindi per passare da questo rapporto a questo rapporto non facciamo altro che moltiplicare numeratore e denominatore per lo stesso coefficiente 1 più I elevato alla M stessa cosa per passare per esempio da qui a qui no? dobbiamo moltiplicare numeratore e denominatore per il coefficiente ad adoppi I, M quindi è evidente che vale questa relazione se vale questa relazione anticipiamo un po' quello che diremo la prossima volta ma insomma lo abbiamo intuito se abbiamo capito di cosa stiamo parlando cosa dirà poi il criterio del valore presente? dirà poi lo formalizzeremo la prossima volta se prendiamo le entrate positive e le uscite negative tra due flussi di cassa sceglieremo quello che ha il maggiore valore presente no? prendiamo le entrate positive e le uscite negative ci interessa guadagnare di più ripeto anticipo quello che dirò nella prossima lezione quindi tra due flussi di cassa alternativi A e B calcolo i due valori presenti e sceglierò quello che ha il maggiore valore presente stessa cosa per il valore futuro stessa cosa per l'equivalente anno allora cosa ci dice questa relazione? che se un flusso di cassa ha un valore presente maggiore dell'altro avrà anche un valore futuro maggiore dell'altro e avrà anche un equivalente anno maggiore dell'altro il che significa che i tre criteri ci daranno sempre lo stesso risultato allora la domanda è perché ad ora introduciamo tre basi per il confronto delle alternative visto che i tre criteri ci daranno lo stesso risultato come esempio in questi casi useremo uno piuttosto che l'altro semplicemente per ragioni dettate dalla semplificazione dei calmi in alcuni casi sarà più semplice calcolare i valori presenti in altri casi sarà più semplice calcolare i valori futuri in altri casi sarà più semplice calcolare gli equivalenti anni ma è evidente che i tre criteri daranno sempre lo stesso risultato lo ripeto nel caso di flussi di uguale durata poi per flussi di durata diversa vedremo come fare d'accordo? ci sono domande? benissimo ci ho premesso invece introduciamo una base per il confronto delle alternative che cogli aspetti diversi parzialmente diversi da quelli conti da queste tre basi valore presente valore futuro equivalente a noi quindi di conseguenza introduciamo una base per il confronto delle alternative che se usata non necessariamente darà gli stessi risultati ad esempio del valore presente e poi vedremo in quali casi utilizzare una base piuttosto che in quali casi utilizzare un'altra base questa base si chiama tasso interno di rendimento il TIR tasso interno di rendimento il TIR in inglese l'agronimo più utilizzato è internal rate o per il TAN che è la stessa cosa rate è la traduzione di tasso di interesse d'accordo? quindi internal rate o ritardo o tasso interno di rendimento insomma la stessa cosa è un altro parametro molto utilizzato vediamo come si definisce il TIR abbiamo diversi modi di definire il TIR una definizione per così dire di natura algebrica che ci da anche poi il metodo per calcolare il TIR è una definizione che coglie invece gli aspetti il significato economico di questo tasso interno di rendimento vediamo prima la definizione di natura per così dire algebrica il TIR è quel tasso di interesse che eguaglia le entrate alle uscite equivalenti il TIR è quel tasso di interesse che eguaglia le entrate alle uscite equivalenti equivalenti il tasso di interesse che eguaglia le entrate alle uscite equivalenti nella definizione badate bene non abbiamo detto in quale punto andare a verificare questa eguaglianza perché non l'abbiamo detto? perché è irrilevante perché è irrilevante perché se in un punto stabiliamo che il flusso di casse per un determinato tasso di interesse che cameremo T è tale per cui le entrate sono equivalenti alle uscite complessivamente il flusso di cassa sarà equivalente a 0 se un flusso di cassa è equivalente a 0 se noi portiamo 0 avanti o indietro di 1 2 n anni otterremo sempre 0 quindi la verifica dell'equivalenza delle entrate alle uscite cioè dell'equivalenza a 0 dell'intero flusso di cassa può essere fatta in un qualsiasi punto d'accordo? ci viene naturale perché è la prima cosa che ci viene in mente verificare questa eguaglianza delle entrate alle uscite nel punto 0 se così facciamo lo ripeto non è obbligatorio quindi la definizione è il tasso di interesse che eguaglia l'entrata alle uscite l'equivalente possiamo fare la verifica in un qualsiasi punto se la verifica la facciamo nell'istante di tempo 0 noi abbiamo chiamato valore presente l'equivalente a 0 del flusso di cassa e quindi di convenso avremo che il tir è quel tasso di interesse che annulla il valore presente cioè che soddisfa la relazione 0 uguale valore presente di attenzione a non confonderci il che non significa che la definizione di tir è quel tasso di interesse che annulla il valore presente è formalmente come dire un'inesattezza perché è un caso particolare il tir è quel tasso di interesse che annulla il valore presente così come quel tasso di interesse che ad esempio annulla il valore futuro è la stessa cosa più correttamente il tir è quel tasso di interesse che rende che è equivalente alle uscite ecco appunto il grafico di cui prima ve lo ricordate lo disegno abbiamo questa situazione valore presente tasso di interesse questo punto cioè il punto in cui il valore presente si annulla sarà questo punto specifico questo tasso di interesse specifico sarà il tir d'accordo? il tir lo ripeto è quel tasso di interesse che rende equivalente l'entrante delle uscite ad esempio possiamo stabilire l'equivalenza all'istante di tempo zero otterremo questa situazione e andremo a cercare quel tasso di interesse che annulla il valore presente e chiameremo questo tasso di interesse tir bene ovviamente possiamo applicare la formula e quindi possiamo scrivere zero uguale il valore presente di uguale la sommatoria di la sommatoria di f di t per 1 più i elevato alla meno t per t che va da zero a n come si determina il tir poi tra poco arriveremo alla definizione economica del tir e capiremo che senso ha dal punto di vista economico però fermiamoci un attimo a questo tipo di definizione che come dicevo ci permette anche di determinare una metodologia di calcolo per determinare appunto il tir che è un'equazione che è un'equazione di grado n nell'incognita i è un'equazione che si risolve il problema è come vedremo da poco che questa equazione è un'equazione un po' scomoda perché è un'equazione frazionaria no? f zero più f1 diviso 1 più i più f2 diviso 1 più i al quadrato più puntini puntini più fn diviso 1 più i alla n innanzitutto è un'equazione che ammette n radici dobbiamo trovarle tutte in questo caso particolare abbiamo un'unica soluzione il che come vedremo significa che le n soluzioni sono tutte coincidenti però abbiamo detto che ci sono dei casi in cui questo diagramma non è così irregolare ma per esempio il diagramma sarà che so di questo tipo e quindi avremo più punti in cui il valore presente intersega l'asse delle ascisse più soluzioni diverse di questa equazione quindi più di un tir vedremo poi come gestire anche queste situazioni come dicevo possiamo risolvere le equazioni oppure utilizzando le tabelle possiamo risolverla in maniera numerica per tentativi come abbiamo fatto già più volte in casi simili anche se non abbiamo chiamato la soluzione in realtà tirano qualche volta abbiamo invertito il ruolo delle incognite e le incognite di un'equazione di quel tipo era proprio il tasso di interesse ad esempio facciamo un esempio semplice numerico supponiamo che la sequenza dei coefficienti sia questa t f di t 0 1 2 3 4 5 meno mille meno 800 e poi tutti 500 500 500 500 500 500 1.2 cioè stiamo cercando il tir di questo flusso di cassa 1.2 1.2 1.2 1, 2, 3, 4, 5 d'accordo? stiamo cercando il TIR di un flusso di cassa che cosa dobbiamo fare? dobbiamo andare a risolvere questa equazione e possiamo risolverla utilizzando le tappelle studiamo l'equazione un po' meglio dobbiamo calcolare il valore presente quindi la nostra equazione sarà 0 è uguale al valore presente del tasso di interesse incognito sarà uguale a meno 1000 poi avremo questo 800 e quindi meno 800 per il coefficiente P dato F al tasso di interesse incognito, virgola 1 d'accordo? poi questi 3,500 possiamo prenderli tutti insieme per utilizzare il coefficiente P dato A il che significa andare indietro di 1 e poi indietro ancora di 1 e quindi andare a scrivere per il coefficiente P dato F al tasso di interesse incognito, virgola 3 e poi dobbiamo andare indietro ancora di 1 quindi per il coefficiente P dato F al tasso di interesse I, virgola 1 e infine più 1200 per il coefficiente P dato F al tasso di interesse I, virgola 5 5 d'accordo? d'accordo? benissimo a questo punto dobbiamo andare sulle tabelle e trovare 2 punti successivi 2 tassi di interesse successivi tale per cui per uno viene un tasso di interesse maggiore di 0 per l'altro viene un tasso di interesse minore di 0 come sempre possiamo andare a caso oppure scegliere un punto da cui iniziare ragionevole utilizzando ad esempio l'interesse semplice se utilizzassimo l'interesse semplice cosa significa cercare il T? cercare quel tasso di interesse che rende l'equivalenza tra entrate e uscite cioè tale per cui gli interessi di questo flusso di cassa sono calcolati proprio in ragione di quel tasso di interesse vediamo qui è un po' più complicato perché in realtà vedete le uscite sono divise su due anni però facciamo due conti quant'è l'uscita complessiva? 1800 quant'è l'entrata complessiva? 555 fa 1500 1500 più 1200 fa 2700 quindi l'interesse è 2700 meno 1800 900 siamo d'accordo? 900 diviso 1800 viene proprio preciso un interesse del 50% se questo 50% lo dividiamo per semplificare supponiamo che queste due uscite siano tutte quante localizzate all'istante di tempo 1 tanto noi dobbiamo cercare il risultato esatto ci interessa un punto ragionevole da cui partire avremo che questo 50% con l'interesse semplice diviso semplicemente su 1,2,3,4 anni diviso 4 il 12,5% io proverei al 12% chiaro come abbiamo ragionato? velocemente mi sono ricavato un punto tutto sommato che rappresenta un'approssimazione una buona approssimazione della soluzione lo ripeto l'ho fatto con l'interesse semplice lo dico più volte è chiaro che se non mi viene in mente questo modo negli esercizi pazienza sceglierete una tabella casuale vedete cosa vi viene come risultato e poi ad occhio cercherete di andare nella giusta direzione per trovare due tasse di interesse successivi che approssimano la soluzione quindi che danno questa espressione uguale a un valore positivo che negativo oppure in maniera un po' più elegante ma anche più rapida applicate l'interesse semplice che significa calcolare qual è l'interesse complessivo differenza tra entrate e uscite le entrate sono 2,7 le uscite sono 1,800 2,7 meno 1,800 fa 900 quello è l'interesse calcolare il tasso di interesse complessivo di tutta la ruota dell'investimento dividendolo per le uscite 900 diviso 1,800 viene facile fa 0,5 esattamente il 50% con l'interesse semplice questo tasso di interesse si divide banalmente per il numero di anni quali anni sarebbero se vogliamo 4,5 perché le uscite stanno qui e stanno qui non è che dobbiamo stare lì a fare i calcoli precisi ci serve un punto ragionevole da cui partire avendo il 50% possiamo dividerlo per 4 anni o per 5 come vi pare io lo dividerei per 4 anni perché conviene ampliare la grandezza più 50% diviso 4 fa il 12,5% all'anno partirei dal 12% o dal 13% come preferite d'accordo? che cosa succede? andiamo a calcolare quel valore al 12% questa espressione il valore presente tutto questo calcolato al 12% è uguale a 39% che dobbiamo fare? dobbiamo scendere il valore presente ecco lì il grafico quello vedete è un classico flusso di cassa regolare quindi è un andamento di questo genere uscite poi entrate quindi cosa facciamo? saliamo scendiamo col tasso di interesse dobbiamo aumentare il tasso di interesse abbiamo preso il punto in cui è positivo dobbiamo prendere il punto in cui è negativo e quindi andiamo a calcolare il valore presente al tasso del 13% che viene fuori uguale a meno 12 e quindi abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo d'accordo? abbiamo trovato un punto in cui è maggiore e un punto in cui è minore interpolazione e quindi viene fuori che il tasso di interesse I è uguale a scegliamo un punto come iniziale e un punto come finale ad esempio questo è il punto 1 questo è il punto 2 e quindi I uguale la nostra incognita I mentre il valore presente nella funzione di interpolazione quindi sarà uguale al 12% più 0 meno 39 diviso meno 12 meno 39 per 13 meno 13 e questo dà il 12,8% d'accordo? e abbiamo risolto questo primo problema di determinazione domande? chiaro come abbiamo proceduto? perfetto torniamo invece al significato economico del TIR vediamo la definizione economica di TIR che cos'è il TIR? come si definisce il TIR dal punto di vista economico? si definisce in questo modo il TIR è la percentuale o tasso di interesse percentuale o tasso di interesse guadagnata sulla parte non recuperata di un investimento percentuale o tasso di interesse guadagnata sulla parte non recuperata di un investimento d'accordo? ok ok cancelliamo tutto e cerchiamo di capire che cos'è questo significato economico di TIR quindi percentuale o tasso di interesse guadagnata sulla parte non recuperata di un investimento ok lo facciamo con un esempio anche qui come spesso facciamo cerchiamo di capire la nostra definizione con un esempio numerico abbiamo diversi flussi di cassa in questo caso ne abbiamo tre flussi di cassa alternativi questi tre flussi di cassa se andassimo a calcolare il TIR con il metodo che abbiamo visto prima ci darebbero tutti e tre lo stesso risultato un TIR del 10% quindi abbiamo tre flussi di cassa se applicassimo il metodo di calcolo del TIR che abbiamo appena mostrato troverete che tutti e questi tre flussi di cassa hanno un TIR del 10% vediamo di capire che cosa significa che quel TIR cioè il 10% è l'interesse guadagnato sulla parte non recuperata dell'investimento in questi tre casi facciamo questa tabella qui ci mettiamo T 0 1 2 3 4 questo è il primo flusso di cassa un po' troppo largo da un po' di 0 1 2 3 4 primo flusso di cassa secondo flusso di cassa 0 1 2 3 4 e infine terzo flusso di cassa 0 1 2 3 4 d'accordo? poi FDT gli importi tutti e questi tre investimenti sono caratterizzati da uno stesso importo iniziale meno mille meno mille meno mille ma hanno andamenti diversi questo ha questo andamento 400 370 240 220 questo invece ha questo andamento meno mille 100 100 100 1100 e questo l'ultimo ha questo andamento 100 000 1464 ecco sono tre investimenti scelti non a caso lo stesso investimento mille nell'ultimo caso si recupera l'investimento e gli interessi tutto alla fine in questo caso si recupera l'abbiamo capito il TIR rappresenta il tasso di TIR gli interessi guadagnati sulla parte non recuperata il 10% abbiamo detto che viene fuori quindi in questo caso cosa si fa? si recupera di fatto gli interessi anno per anno e alla fine si recupera anche il capitale e qua invece è la situazione intermedia anno per anno si recuperano gli interessi e un po' di capitale quindi sono i tre casi limite interesse e capitale tutto alla fine interessi nel corso degli anni capitale alla fine e qui un po' di interessi e un po' di capitale anno per anno allora con U di T-1 indichiamo la parte non recuperata dell'investimento all'istante T-1 e poi vedremo perché ci serve iniziamo da questo flusso di cassa qui quindi evidentemente all'istante di tempo zero vede non ha proprio senso perché non c'è T-1 mettiamoci tra T-1 d'accordo? arriviamo alla fine del primo anno quanti soldi abbiamo recuperato alla fine del primo anno? non abbiamo ancora recuperato nulla no? abbiamo investito mille e non abbiamo ancora incassato nulla quindi la parte non recuperata dell'investimento sarà proprio uguale a mille euro no? dobbiamo ancora recuperare mille euro su questa parte non recuperata dell'investimento maturano gli interessi in che ragione? gli interessi saranno uguali a ma il tasso di interesse che è proprio il TIR per definizione questo significa la parte non recuperata dell'investimento rivalutata ha un tasso di interesse pariato quindi TIR per U di T-1 allora ripetiamo è passato un anno siamo arrivati alla fine del primo anno quanti soldi devo ancora recuperare? qual è la parte non recuperata dell'investimento? su questi mille mi devono riconoscere se sono io quello che ho fatto gli investimenti un interesse il TIR rappresenta il tasso di interesse riconosciuto sulla parte non recuperata degli investimenti e quindi gli interessi saranno uguali al TIR per U di T-1 in questo caso particolare saranno uguali a 0,1 vi ricordo che come ho detto prima se noi andassimo a calcolare il TIR in questi tre casi col metodo di prima troveremo sempre il 10% quindi 0,1 per 1000 e quindi uguale a 100 d'accordo? qual è la parte non recuperata dell'investimento dopo un anno? quindi U di T qual è la forma? U di T sarà uguale a U di T-1 più gli interessi quindi U di T-1 più U di T-1 per il TIR quindi U di T-1 per 1 più il TIR d'accordo? d'accordo? quindi questa è la parte non recuperata dall'investimento e poi devo considerare la cifra F di T la parte che recupero in questa convenzione di segni F di T dobbiamo mettere con segno negativo la parte non recuperata a T-1 più gli interessi meno i soldi che recupero alla fine dell'anno facciamo i conti 1100 la parte non recuperata più gli interessi meno 400 uguale 700 questi 700 ce li ritroviamo l'anno successivo a U di T-1 questi sono i soldi da recuperare 700 calcolo gli interessi 0,1 per 700 uguale 70 e quindi la parte non recuperata a U di T sarà uguale a 770 meno 300 270 uguale 400 l'anno successivo mi ritorno a U di T come parte non recuperata a U di T-1 400 0,1 per 400 uguale 40 qui abbiamo 440 meno 240 uguale 200 anno successivo parto da 200 0,1 per 200 è uguale a 20 e alla fine avremo 220 meno 220 uguale a 0 così come deve essere cioè che significa così come deve essere se abbiamo fatto il calcolo al TIR cioè al tasso di interesse che rappresenta il TIR alla fine nell'ultimo anno ci dovremo a recuperare tutto l'investimento questo è il significato del economico del TIR è il tasso di interesse che viene riconosciuto anno per anno sulla parte non recuperata dell'investimento vediamo se ci troviamo in questi altri casi stesso discorso qua è più facile 1000 l'interesse è 0,1 per 1000 uguale a 100 e qui abbiamo 1100 meno 100 uguale a 1000 qui è più facile perchè poi si ripete sempre lo stesso schema 1000 ce lo ritroviamo qui stesso discorso è inutile che riscrivi tutto uguale 100 ce lo ritroviamo qui e 1000 ce lo ritroviamo qui anno successivo 1000 100 1000 anno successivo 1000 100 e questa volta però recuperiamo 1100 e quindi inseriamo e ci troviamo d'accordo? e infine vediamo qui qui non si recupera nulla quindi 1000 qui abbiamo 0,1 per 1000 1000 uguale 100 e qui abbiamo 1100 meno 0 perchè qui non si recupera niente anno per anno questo 1100 ce lo ritroviamo qui 0,1 per 1100 fa 110 e qui abbiamo 1210 questo ce lo ritroviamo qui 1210 questo è questo è 0,1 per 1210 uguale 121 e qui abbiamo 1331 questo ce lo ritroviamo qui 1331 qui abbiamo 0,1 per 1331 dovrebbe fare 133,1 ma evidentemente nell'esempio ci sono solo i numeri interi per esempio se vogliamo essere precisi dovrebbe esserci 1464,1 quindi diciamo 133 e quindi 133 più 1331 fa 1464 meno 1464 e quindi proprio 0 d'accordo? quindi in tutti e tre i casi abbiamo verificato che il TIR rappresenta il tasso di interesse sulla parte non recuperata dell'investimento d'accordo? questo è il significato di TIR poi capiremo come lo utilizziamo nei criteri però già abbiamo capito che è un qualcosa di completamente diverso dal valore presente il valore presente rappresenta l'equivalente di tutto il flusso di cassa distante di tempo 0 il TIR rappresenta un qualcosa di completamente diverso tasso di interesse guadagnato sulla parte non recuperata di un investimento allora ci ho premesso introduciamo un altro discorso che completiamo dopo la pausa sviluppiamo questa equazione 0 uguale F0 più F1 1 più i più F2 1 più i al quadrato più più Fn 1 più i alla n bene bene questa è un'equazione polinomiale anzi questa è un'equazione frazionaria di grado n frazionaria di grado n adesso arriviamo alla spiegazione polinomiale del TIR facciamo questa sostituzione x uguale 1 diviso 1 più i questa equazione diventa 0 più F0 uguale io scusa F0 più F1 x più F2 x al quadrato più Fn x alla n ed è un'equazione polinomiale di grado n che noi sappiamo gestire molto meglio dell'equazione frazionaria questa equazione polinomiale di grado n può essere risolta e troveremo il TIR in realtà troveremo il TIR perché un'equazione polinomiale di grado n ammette n soluzioni vi ricordo che queste soluzioni possono essere reali o possono essere complesse se questa equazione ammette una soluzione complessa ammetterà anche la sua coniugata quindi le soluzioni complesse vanno sempre a coppie d'accordo? bene qual'è il problema? il problema è questo ci possiamo trovare nelle condizioni date da il grafico che abbiamo commentato sinora flusso di cassa che ammette un unico TIR innanzitutto quando ammette un unico TIR se ritorniamo alla nostra soluzione polinomiale di che cosa stiamo parlando? alla nostra equazione polinomiale di che cosa stiamo parlando? a noi che soluzioni interessa? vi ricordo che il tasso di interesse I appartiene all'intervallo l'abbiamo visto la volta scorsa meno 1 infinito d'accordo? quando I è uguale a infinito x è uguale a 0 d'accordo? quando I è uguale a meno 1 x tende a infinito quindi I appartiene a meno 1 infinito significa dire x appartiene a 0 infinito d'accordo? anzi per essere precisi l'intervallo è aperto perché quando I tende a infinito x tende a 0 d'accordo? quindi a noi interessano le soluzioni reali positive di questa equazione polinomiale d'accordo? ovviamente non ci interessano le soluzioni complesse ci so non c'è dubbio ma a noi non interessano così come a noi non interessano le soluzioni reali negative in x perché porterebbero a tasse di interesse che non hanno significato quindi può capitare che questa equazione tra le n soluzioni ammetta un'unica soluzione reale positiva possono anche essere radici multiple cioè ammetta più soluzioni reali positive però tra loro coincidenti e quindi ammette un'unica soluzione reale positiva e quindi ci troveremmo in questa condizione ma può anche capitare che questo flusso di cassa ha dei coefficienti per i quali questa equazione polinomiale al di là delle soluzioni negative reali negative e al di là delle soluzioni complesse e complicate ammetta più di una soluzione reale positiva distinta che significa ci troveremo in queste condizioni qui ci mettiamo pv qui ci mettiamo i qui ci mettiamo pv qui ci mettiamo i ad esempio in questa soluzione in questa situazione in questo caso avremo due soluzioni reali positive e quindi due tir di questo flusso di cassa questo caso ci da molto fastidio come vedremo quando appliceremo il criterio del tir non potremmo applicarlo a flussi di cassa di questo tipo cioè il criterio del tir lo potremmo applicare solo a flussi di cassa di questo tipo cioè solo a flussi di cassa che ammettono un unico tir quindi invece quando ci troveremo in queste condizioni il criterio del tir almeno a questi flussi di cassa non potrà essere applicato d'accordo? quindi dobbiamo assolutamente capire in quali casi ci troviamo in questa situazione una sola soluzione reale positiva e in quali casi ci troviamo in questa situazione più di una soluzione reale positiva distinta ed è quello che vedremo subito dopo la pausa